Questi giorni di dicembre, fino al 31 di dicembre, vedete nuovi video su YouTube, oltre a questo video che lo vedete tra il 31 di dicembre del 2022 e il 1 di gennaio del 2023. Vedete altri video, intanto che aspettate questo video che uscirà tra il 31 e il 1 di gennaio del 2023, uscirà nuovi video. Pubblicherò questo video tra il 31 di gennaio e il 1 di gennaio 2023, intanto guardate quei video che vi ho pubblicato. Questo video l'ho girato, questo piccolo video, per un piccolo aggiornamento nei prossimi video che usciranno sul mio canale. Non si sa ancora cosa pubblicherò, cosa usciranno. Lo vedrete in seguito, quelli iscritti, sono già iscritti sul canale. Cari ragazzi, più iscrivetevi al canale, chi non è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi così vedrete i nuovi video fino al 31 di dicembre. E poi uscirà questo video lunghissimo che è girato diversi giorni di dicembre. Questo è un piccolo aggiornamento che vedrete anche in questo pezzettino, anche nel video, dal 7 di dicembre al 31 di dicembre fino alle 11.59. Alle, tra le 11.59 e il primo, tra le 11.59 del 31 dicembre e il primo gennaio del 2023, vedrete questo nuovo video. Grazie che, se siete stati dall'inizio alla fine a guardare questo video, ho preso un breve aggiornamento al buio soffuso. Questo piccolo aggiornamento che lo vedrete anche nel video che sto girando adesso dal 7 di dicembre fino al 31 di dicembre fino alle 11.59. più qualche pezzo, se ci riesco a farvi vedere i fuochi di artificio dalla mezzanotte in poi, se ci riesco, da casa mia oppure o no. Buona visione del video, spero che questo piccolo aggiornamento vi è piaciuto. Oggi è il 7 di dicembre del 2022.